Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo avanti con il nostro corso di formazione trading cripto. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di alcune strategie per entrare sul mercato, vi ho fatto vedere quello che ho realizzato io su alcune criptovalute, come ho realizzato quel tipo di strategie, sono entrambe state strategie profittevoli, ve le ho fatte vedere anche in tempo reale, e poi vi ho anche fatto una lezione, un video sulla possibilità di come andare a strutturare un portafoglio, come andare a scegliere le cripto. Quindi siamo al quarto episodio, facciamo un passetto un po' più avanti ragazzi, quindi abbiamo parlato di alcune strategie, però mi sono reso conto che mancava un pezzo, cioè quali sono le piattaforme più idonee dove andare a realizzare quelle che sono le nostre operazioni di trading, ma anche perché no, di semplice investimento holding, quali sono gli exchange giusti, come andare a sceglierli, ragionando un po'. Perché ci sono tante piccole tips ragazzi che voglio darvi in queste cose, e sono case study, quindi esperienze d'uso, che spesso vengono sottovalutate dai neofiti del mercato delle criptovalute, perché la semplicità a volte non va a braccetto né con la sicurezza, e ne poi con alcune tipologie di operazioni che magari vi possono creare dei problemi, anche abbastanza importanti, anche di portafoglio, quindi delle perdite, di cui poi si ci accorge col passare del tempo. Allora ho deciso di fare questo video, che è un video che vi spiegherà quali sono le piattaforme idonee, secondo me, per andare a fare il trading delle cripto, ma soprattutto alcuni tips, tre più o meno, per scegliere quelle che sono le piattaforme idonee, quando magari quelle che vediamo oggi saranno un po' bypassate, oppure se ne verranno nuovi tipi di exchange. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, vi faccio vedere, sono ancora a Miami, vi mostro la baia di Miami ragazzi, guardate che capolavoro che vedo dal mio hotel ragazzi, giusto una vista, poco 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 carina, va bene, allora ragazzi, il clima meraviglioso, è veramente spettacolare, e questo di Miami fa un caldo incredibile, è praticamente estate. Allora, andiamo al dunque, iniziamo dalla questione legata alla scelta degli exchange, dove operare, come operare. Allora, moltissimi quelli che iniziano come neofiti, ragazzi, fanno un accesso nel settore delle criptovalute utilizzando le app mobile, tra le quali quasi tutti, insomma, utilizzano soprattutto Crypto.com, altre app come Conio, Revolut, quelle che sono, diciamo, le applicazioni che ci possono consentire di avere un accesso da smartphone, non lo sto registrando con lo smartphone, non posso farvi vedere il mio smartphone, però questa cosa, però, è contro. Sì, è giusta, per esempio, in alcuni casi, perché per esempio nell'app di Crypto.com vi dà la carta, eccetera, però le applicazioni da mobile, ragazzi, non sono applicazioni idonee per fare trading e per fare investimenti di un certo livello. Ora, se avete un centinaio di euro, un centinaio di dollari da mettere su, ragazzi, va benissimo anche quello, perché non ha senso magari andare a aprire un wallet, un exchange importante, perché non farete magari trading con 100 dollari. Però, se volete qualcosina in più, bisogna iniziare a ragionare fuori dalla questione del mobile, non che gli altri exchange non abbiano le app da mobile, ragazzi, però magari non sono user friendly e quindi dovete un po' ragionare sulla questione sempre della coperta corta. Se noi abbiamo un'app da mobile estremamente friendly, da una parte vi consente di avere accesso velocemente, magari non ha troppo attrito nella interfaccia utente, però dall'altra parte i servizi sono troppo, troppo basic per fare poi un'attività di investimento trading e soprattutto hanno dei costi impliciti, dei costi nascosti che magari non valutate perché siete dei neofiti e non sapete che esistono perché ci vorranno mesi per andarli a scovare in pratica, però esistono e queste cose vi vanno a toccare il vostro portafoglio, l'eventuale rendimento o quello che sia. Quindi io vi dico che dal mio punto di vista l'accesso nel settore delle criptovalute preferisco farlo utilizzando direttamente quelli che sono gli exchange che poi mi porteranno anche a poter operare, non dico come trader professionista, però già ad un livello assolutamente accettabile sia da investitore sia da trader e quindi dico sempre perché fare un passetto corto e quando si può fare un passetto medio, giusto, corretto che però vi porta avanti anche nel pensiero del futuro, nel lungo periodo. Parliamo tanto di lungo periodo ma dobbiamo anche impostare un modo di ragionare secondo me che riguarda anche le nostre abitudini, quindi facilità, velocità, istantaneo, ok, però poi mi trovo male nel lungo periodo, no, allora ragiono un po' di più, mezz'ora in più che poi alla fine è questo e faccio un qualcosa che già mi porta ad essere preparato per i prossimi due anni, mezz'oretta che vale però due anni, ragazzi, di possibilità future, di tante cose, quindi impariamo un po' a metterci nel nostro, impariamo un po' a non fermarci al piatto pronto e andare avanti. Allora, quali sono gli exchange che secondo me sono più interessanti? Io ne ho portati tre in questo momento per farvi vedere questa cosa, è immancabile la questione di Binance Exchange, ragazzi, Binance è l'exchange più grande del mondo in termini di volume, è immancabile nel vostro portafoglio, perché nelle vostre applicazioni, ragazzi, perché? Perché su Binance esistono tutti i tipologi di token, ci sono tantissimi volumi, la piattaforma è veramente molto evoluta, ha una sua chain che è la BSC, ha la carta un po' come Crypto.com, è vero, a differenza proprio di Crypto.com, l'applicazione anche mobile di Binance è più complessa. Perché, ragazzi? Perché è dedicata ai trader, non come Crypto.com, che è dedicata un po' più alla questione della carta, del learning o qualcosina così. Quindi, allora, Crypto.com va bene pure, ne parliamo tra poco, però Binance è per i trader, ragazzi, Crypto.com non va bene per i trader. È vero che hanno l'exchange, ma non hanno i volumi sufficienti, quindi primo tips fondamentale, quando andate a scegliere una piattaforma sulla quale operare, i volumi, i volumi, ragazzi, i volumi sono il primo tips, devono essere alti, più alti sono i volumi di scambio su quella piattaforma, più voi siete tranquilli che ci sarà un compratore, che ci sarà un venditore quando andrete a fare uno scambio, che alcune tipologie di errori, di costi impliciti non verranno subiti, e vi racconto adesso un aneddoto, e che quella piattaforma, diciamo, avrà anche degli investimenti cospicui per il futuro, eccetera. È come se io vi dico, se dobbiamo scegliere una carta di pagamento, magari la Crypto.com è un'ottima carta, perché è leader, eccetera, ma se dobbiamo scegliere una piattaforma di trading, allora in quel caso no, perché l'exchange in Crypto.com ha pochissimi volumi. Cosa succede quando voi andate ad eseguire un trade su un exchange che ha pochi volumi? Se fate un errorino, cioè andate a mettere un ordine, per esempio, di acquisto o di vendita di una criptovaluta, Bitcoin, immaginiamo, e lo mettete a mercato, ragazzi, cosa significa un ordine a mercato? Che date la possibilità alla piattaforma, all'exchange, di eseguirvi al miglior prezzo possibile per quella piattaforma. Attenzione, per quella piattaforma. Ciò significa che se in quel preciso lasso di tempo quella piattaforma su quella criptovaluta non ha dei venditori, voi andate a comprare a prezzi sbagliati, salatissimi, più alti, a volte anche del 2-3%, ragazzi, perché c'è spread, si dice così, tra denaro e lettera, dovuto al fatto che non c'è volume su quell'exchange. Quindi il volume vi dà la possibilità di avere prezzi più bassi negli acquisti. Non esistono solo le commissioni da guardare. È vero, gli exchange vanno guardati anche da un punto di vista di sicurezza e commissioni, adesso li vediamo. Però esiste anche questa logica, cioè la questione del costo implicito, quello nascosto, quello che non andate a vedere. Quando andate a eseguire un trade, se il bitcoin costa 45-48 mila dollari e quel trade lo andate a eseguire a 48 mila dollari e 400, 48 mila e 400 dollari, avete aggiunto l'1% e questo, ragazzi, è un costo implicito. Cioè, invece di andare a comprarle quell'assetta al prezzo giusto, l'avete comprato più caro, come se andate al supermercato, vi comprate un Coca-Cola e la pagate 2 euro invece di 1,50 euro. È la stessa cosa, ragazzi. Allora, quello è un costo. Gli exchange con meno liquidità hanno più costi impliciti, così come io vi ho detto. Quindi spesso può capitare che quando andate a eseguire comprate a prezzi sbagliati. Bitcoin ha tanti volumi quasi su tutti gli exchange, ma se voi andate a provare a eseguire delle operazioni su exchange più piccoli, che hanno su coin, criptovalute più piccole, che non hanno magari capitalizzazione, poca capitalizzazione, state certi che andate ad realizzare un spread molto alto con un costo implicito molto alto. Quindi la scelta della piattaforma deve basarsi anche sulla liquidità. Liquidità è numero uno. Anche per questo Binance è leader, ragazzi, perché poi il concetto sulla liquidità è fondamentale. Quindi oggi non andiamo a vedere la piattaforma, andiamo a ragionare solo come sceglierla. Poi c'è un altro variabile. Quindi Binance, ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione, vi dando come sempre una mano con questi piccoli rep per sostenere un po' il mio lavoro. Quindi io vi ringrazio, ragazzi. Vi lascio i link in descrizione anche con le varie offerte e i bonus delle piattaforme che vediamo. Al di là della questione della liquidità c'è un'altra questione, la qualità della piattaforma di trading, cioè la struttura, la piattaforma di trading più evoluta, meno evoluta. Questa cosa è importante perché se noi andiamo a cercare una piattaforma che ci consente di poter operare in maniera decente e soprattutto in maniera un po' più professionale, per esempio avendo degli ordini condizionati, lo stop loss, il take profit, l'ordine stop, l'ordine limit, l'ordine market, il trading stop. Tutte queste cose qui devono essere presenti all'interno di uno exchange di trading perché ci deve dare la possibilità di operare. Dovete avere gli strumenti del mestiere. Immaginate, non so, di essere un pescatore senza la canna da pesca giusta, un corridore di Formula 1 con una macchina, diciamo, senza motore. Allora questa cosa non potete farla, non potete arrivare al traguardo se non avete una macchina performante. Questa è la questione. Quindi piattaforma deve essere veloce, performante, sicura e avere gli strumenti giusti che vi servono. Non sono tanti ragazzi, perché poi esiste anche l'over, diciamo, information, la confusione anche in questo tipo di logica. Quando le piattaforme sono troppo complesse diventano poco user friendly per i neofiti, non vanno bene. Quindi anche in questo caso piattaforma un giusto equilibrio tra quello che offre al trader, che devono essere quei 4-5 servizi utilissimi, è quello che è la user friendly nella interfaccia, quindi l'interfaccia molto semplice da utilizzare. Anche per questo tipo di logica ragazzi, io vi riporto un altro exchange che secondo me è in questo caso anche un po' leggermente superiore a Binance, che è FTX ragazzi. Allora FTX è un exchange molto molto buono, sta facendo un grandissimo hype. In questa fase ha un'ottima piattaforma anche mobile, ha delle commissioni che sono assolutamente in linea con quelle di Binance, ha un sacco di servizi, tra le altre cose poi nell'ambito italiano vi consente anche di fare l'operatività short selling, cioè l'operatività di trading al ribasso, per guadagnare al ribasso, che in questo caso Binance non ce l'ha perché in Italia è stata sospesa, però la rimetteranno prestissimo, e ha anche l'operatività ragazzi, FTX, l'operatività sui future, cose che anche qui su Binance non c'è, semplicemente perché su Binance è stata sospesa al momento, ma verrà reintrodotta sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Quindi, io direi ragazzi che entrambi questi exchange vanno posseduti un po' dal trader. Binance perché comunque è leader, è ok. FTX perché a livello operativo è il top in questo momento sul mercato italiano. Ovviamente, se siete all'estero ragazzi, anche io qui riesco a utilizzare praticamente tutti gli exchange, sono negli Stati Uniti, e non ci sono problemi. Però, se siete in Italia, in questo momento bisogna anche vedere le normative. Quindi, altra cosa, piattaforma di altissimo livello, fondamentale per l'operatività. Poi c'è un altro tipo di logica ragazzi, se volete anche operare con strumenti estremamente voluti, esistono anche altri tipi di exchange, in questo caso vi faccio vedere anche quelli, che sono, io in questo caso vi ho scelto Delta, che è un exchange indiano e nuovissimo, sta, diciamo, operando da qualche mese, diciamo, in Italia è arrivato a ottime, tipo di performance, ed ha dei volumi in crescita, questo è fondamentale, perché prima questo exchange, quando io ho iniziato a parlare, erano troppo piccolo, ha dei volumi in crescita, vedete, sono molto, molto importanti, soprattutto nell'ambito delle opzioni, chi di voi volesse fare un po' il passo in avanti, non vi spiego le opzioni qui ragazzi, sono per trader, però assolutamente, può utilizzare Delta Exchange, perché le opzioni sono il loro core business, quindi loro sono molto forti sulle opzioni, ma, 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 c'è un ma, perché come Delta Exchange esiste anche poi il nostro PrimeXBT. Ok, allora ragazzi, allora, PrimeXBT, anche qui, diciamo, gli Stati Uniti funziona alla grande, in Italia lo potete utilizzare solo con una VPN, perché l'hanno oscurato, attenzione a questa cosa, perché ci saranno risvolti, poi ne parleremo, nei prossimi mesi per tanti exchange in Italia, dovranno regolamentarsi come Prime, dovrà farlo, altrimenti in Italia verranno oscurati, e questa è una cosa molto complicata, comunque, quindi Prime, ovviamente, all'estero funziona regolarmente. Anche questo, come Delta, sono exchange per trader pro, quindi, al momento, se siete neofiti, io vi dico di aspettare, perché questo tipo di exchange sono un po' per pro, e potete utilizzarli solo ed esclusivamente se già avete delle cripto, mentre Binance ed FTX voi potete anche bonificare gli euro dal vostro conto, sul vostro conto exchange, e quindi vi dà la possibilità proprio di entrare nel settore delle cripto, quindi, invece, Delta e PrimeXBT no, ragazzi, quindi dovete prima comprare le cripto, poi eventualmente inviare le cripto su quegli exchange lì, e operare con le loro piattaforme, perché soprattutto Prime ha l'elevatissima, per esempio, ragazzi, Prime è molto intuitivo, è un exchange veramente, cioè non è un broker, in realtà, molto intuitivo, facilissimo da utilizzare, però, in Italia, è stato bloccato, questione consob, andatevi a vedere la questione sicurezza, e tutto il resto, potete utilizzarlo, però dovete prendere una VPN, dovete, so, è un po' più macchinoso in questo momento, se siete neofiti, io vi dico che, al momento, secondo me, le scelte giuste sono avere Binance ed FTX, perché vi consentono, in pratica, di poter entrare direttamente dal vostro conto in banca italiano sull'exchange e comprare le vostre prime criptovalute, sia Binance che FTX hanno entrambi una piattaforma mobile molto buona, sia Binance che FTX hanno tantissime possibilità operative sufficienti a un trader che inizia, e vi possono accompagnare nella vostra attività di trading, anche per anni, ragazzi, non avete bisogno di nient'altro, quindi questi sono, secondo me, gli exchange che, al momento, e sto registrando nel 2022, sono il top in questo momento, per sia neofiti, sia per i trader che vogliono fare un passettino in più, quindi, ragazzi, ve li consiglio, ovviamente, e, secondo me, sono i giusti meccanismi per iniziare ad operare. Nelle prossime lezioni di questo corso trading cripto free per YouTube, noi utilizzeremo questi due exchange, vi farò vedere. Poi, magari, se ci sarà la possibilità di fare qualche cosa di caruccio, vi faccio vedere delle operazioni anche su Delta Exchange e Prime XBT. In particolar modo, ragazzi, ho creato una strategia nuova su Delta Exchange, l'ho messa in atto nelle scorse settimane, e vorrei portarvela sul canale, proprio per spiegarvi come si può andare a costruire una strategia che non dipende dalla direzionalità del mercato, cioè che fa profitto sia se il mercato scende, sia se il mercato sale, e che può perdere solo in un caso, ve lo farò vedere. Allora, quel tipo di strategia si possono utilizzare solo su piattaforme che vi danno la possibilità di fare lo short selling, cioè questa cosa qui, ho fatto un tutorial, ragazzi, andatevelo a vedere, che vi permette di investire al ribasso quando i mercati magari scendono, avete un'idea di poter fare una speculazione ribassista, perché diciamo che non è investire se si fa short selling. Va bene, ragazzi, allora, crypto.com per finire, va bene per entrare nel mercato delle crypto? Sì, perché crypto.com a livello di carta è, secondo me, veramente mi sorprende, è la mia carta ormai da due anni, la uso costantemente insieme a quella di Binance e anche alla Wirex, però crypto.com ha un'app estremamente, insomma, facile. In ogni caso, ragazzi, voi potete anche accedere al mercato crypto da crypto.com l'app del vostro smartphone, però io poi vi consiglio, se volete operare e fare dei trade, aprite o Binance o FTX, perché vi servono questo tipo di piattaforme per stare sul pezzo, operare in maniera più, diciamo, professionale e soprattutto non avere problemi di liquidità. L'app di crypto.com, la stessa app per operare, non va bene, ragazzi. Potete fare due trade all'anno, ma non di più, perché vi applicano dei costi impliciti di acquisto. Ed è giusto che sia così, perché quell'app non è destinata ai trader, è destinata a chi vuole fare un acquisto spot una volta ogni tanto. Quindi a quel punto non vi serve un exchange, quella piattaforma complessa elaborata, vi serve una cosa semplice. A quel punto andate a usare crypto.com, fate un'operazione, due, e basta, ragazzi. Quindi user friendly, ricordatevi, va benissimo, utilizzate crypto.com per comprarvi il Bitcoin la prima volta, ma poi, se volete operare, fare le operazioni di trading, farvi un vostro portafoglio di crypto, chiudere, diciamo, l'operatività e dire, ok, io adesso vado a fare lo short selling, e fare queste cose, non va bene quella app lì, ragazzi, perché è troppo semplice, non vi consente di operare, veramente non ha gli strumenti giusti, perché non è stata fatta per quello. Quindi non è una mancanza dell'app, è giusto che sia così, è una cosa differente. Quindi, dal mio punto di vista, vi ho dato tre punti di ingresso nelle crypto, e tre tipologie di piattaforme, crypto.com, solo se non fate niente, un acquisto ogni tanto, vi tenete poi lì, nella loro funzione earn, le crypto, e poi le vendete dopo tre anni. Allora, va benissimo. E il resto, ragazzi, Binance, FTX, e poi, se siete trader più evoluti, Delta Exchange, e PrimeXBT, perché entrambi hanno ottime piattaforme da trader. Quindi, tips per scegliere gli exchange, in finale, ragazzi, sono questi qui. Liquidità, exchange che hanno liquidità, è il numero uno. Poi, ci sono le piattaforme di trading, quello che vi consentono di fare, e la questione è legata allo short selling. Dovete avere anche la possibilità di fare lo short selling. Se non avete questa possibilità, a livello di trading, avete una mano in meno. È come avere, invece di due mani, una mano in meno, ragazzi. Fatevi voi, un po' i conti. È vero che le crypto salgono sempre, è vero che noi siamo pro crypto, è vero che tutto il resto, ma se voi volete imparare il trading, dovete sia essere capaci, avere la possibilità della piattaforma, di fare operazioni long, quindi al buy, per crash, insomma, comprare, o short selling, se i mercati vanno giù per vendere. Questa è l'assoluta verità. È assolutamente, questo vi consente anche di proteggere, di fare operazioni di strategie complesse, e cose più carine. Quindi, per quello ci sono, FTX, Delta, Prime, Binance ancora, non ha riattivato questa funzione in Italia. Quando la riattiverà, vai di nuovo con il liscio, vai con Binance. Per oggi è tutto, ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuta questa lezione, se avete delle domande, e quello che vi viene in mente, su questa cosa qui. È un'azione un po' particolare, lo so, non abbiamo visto le piattaforme dall'interno, ma ho fatto una lezione di mindset, e di logica, per scegliere gli exchange, in maniera corretta, e coerente, e farvi capire, veramente, che cosa c'è sotto, un pochettino, quel beletto di cipolla. Ciao, raga!